Salve regà, allora, video in chiaro, soprattutto per i tifosi juventini, i pseudo juventini, i juventini, ma juventini come se lo dice col paraocchi, perché a me il tifoso col paraocchi non mi è mai piaciuto, mai, mai, anzi, sta proprio sui coglioni, per questo io vado a discutere più con i tifosi juventini che con quelli dell'arte squadra, una volta discutevo con quelli dell'arte squadra e me lo discuto solamente con i tifosi juventini, perché con quelli dell'arte squadra, ci posso discutere, non ci posso discutere, perché ho un attenuante, io ho un attenuante, che noi siamo più forti e non posso discutere con quelli dell'arte, non posso discutere, perché noi abbiamo la squadra più forte dell'Italia, discute con l'arte, noi non ci discute, l'arte fanno ride, ok, l'arte fanno ride, l'arte squadra fanno ride, fa tutto schifo, tutto schifo, eccetto il Napoli, che gioca bene, pure la Lazio gioca bene, ma quest'anno, sono un po' le partite che avete visto, insomma, ha tirato un po' i che mi imbarca nel senso che, anzi, il primo tempo ha giocato pure abbastanza bene, poi dopo il secondo tempo è uscito fuori il Napoli, ha fatto un pressing, un forcing, insomma, un gioco d'attacco impressionante, passaggi rapidi, veloci, una cosa che noi, io vedo giocare il Napoli, noi, io a volte sognano, leverei le magliette del Napoli, capito, e gli metterei nella panchina da Juve, e mettere Allegri nella panchina del Napoli, sono convinto di una cosa, che Allegri non arriverebbe manca a metà classifica, con i giocatori che c'è a Napoli, così come sta, a prescindere di se scorserebbero tutti, e visto che a Napoli c'è una rosa limitata, come gli scorsero, 4-5 giocatori, Allegri, e l'ottapala sarebbe, perché funziona così, funziona così, ve ricordate Cormila? Due anni stava l'ottapala sarebbe proprio, ha preso svegli, come se sfasciavano 2-3 giocatori, e il Mila stava con le toppe, e lui non riusciva a fare, al fine come feceva Cormila, la stessa cosa, e poi hanno cresciuto via, perciò questo è Allegri, Sarri invece fa un gioco con questi giocatori che ha, che non ha tanti ricambi, per il modulo che c'è lui, lui fa un tipo di gioco, che sono 12-13 giocatori titolari, e basta, fatalità non se ne sfasciano, non c'è mai una a Napoli, mai, pochi, uno ogni 2-3 mesi se ne vuoi rompere, magari c'è un po' di raffreddore, noi c'è l'infermeria lunga da qui fino a New York, c'è l'infermeria, perché si sfasciano sempre, ma meno male che abbiamo una rosa ampia, abbiamo 2-3 squadre noi, perché non è che come a Napoli che c'era una, noi c'era due, tre, due squadre e mezza c'era, a differenza l'una, e poi ciò possiamo cambiare gli artefici che giocano, metti i leviguelli, metti quell'altro, più o meno stiamo là, potremmo fare, ma adesso potevamo fare meno di Dybala, potevamo fare meno di Tanti, Douglas Costa poteva un panchina, Porta Alessandro un panchina, insomma tanti giocatori in panchina li mettevo perché noi abbiamo altri giocatori che possono sostituire, noi su 26-27 giocatori ne abbiamo 2-3 che sono pippe, e il resto sono tutti simili, se assomigliano, hanno, capito come, il Napoli, i stessi giocatori che c'ha, c'era Sieno 12-13 e adesso sono tutte pippe, perciò a quello, se gli se ne faccia uno o due, magari c'è un problema, è incasinato, però guardate come gioca, guardate come gioca il Napoli, tanti mi dicono, però a maggio, a maggio ci arriviamo noi, ecco, il Napoli con questo gioco è uscito fuori dalla Coppa, il Napoli con questo gioco è uscito fuori dalla Coppa Italia, a me non me ne frega un cazzo, vince facile, perché a me mi piace vedere la Juve che gioca bene, voglio vedere la Juve che gioca bene, a me sta sto schifo di squadra, ma rotto lì coglioni, non la sopporto più, non sopporto più sta squadra, non la sopporto, cacciassero via sta allenatore perché ma rotto lì coglioni, non lo sopporto più, non lo sopporto più, perché facciamo un gioco schifoso, vedere la partita di stasera e quella di ieri sera, veramente il giorno e la notte, proprio il giorno, ahia, il giorno e la notte, capito come? Ecco, eh? Eh? Il giorno e la notte, dai su, fatta fare una pazzizzata, eh? Il giorno e la notte, ok? Mi ha stufato, mi ha fatto passare la voglia ad essere tifoso della Juve, proprio una volta esultavo, impazzivo, porca puttana, diventavo scemo quando vedevo giocare a Juve, quando segnava, adesso segna, non riesco più manco a esultare, non riesco manco a esultare, non ce la faccio, non ce la faccio, è più forte di me, è più forte di me, è più forte di me, speriamo che ho manano un cacci... Mannatelo via sta allenatore, no, 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 raga, non lo sopporto più sta allenatore, non lo sopporto più, guarda, mannaggia la miseria, mannaggia la miseria, uno vorrebbe diraglielo in qualcosa, però non mi sembra giusto, dovrebbe, che ne so, proprio, dovrebbe essere, mannato via, via, fuori, fuori, dico io, non lo sopporto più, vedere la Juve che gioca così male, tanti mi dicono, eh, ma tra pattoni, ma lì, state pezzetti, ma state pezzetti, mancatevi mai le partite, io dal 1970 a questi qua, io, ma che cazzo ne sapete voi da Juve, state pezzetti, state pezzetti, imbecilli, imbecilli, al circo, a me mi piace vedere la Juve che gioca bene, voglio, mi deve far divertire, a me non mi piace che vinci 1-0 con un gioco di merda, preferisco perde, preferisco perdele, 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 vincere così, non c'ha gusto, ha vinto un campionato con tutti i morti, e giocando con lo squadrono della Madonna, perché noi abbiamo uno squadrono della Madonna, sono tutti i morti, squadra di morti in Italia, il campionato, che cazzo fai, me lo dico, che c'hai, è un campionato di morti, la Juve è la squadra più attrezzata, e l'arte è il nuovo, giusto, il Napoli riesce a reggere il passo perché fa un calcio della Madonna, perché il Napoli come giocatore, come percorso di giocatore, sta a livello della Roma, dell'Inter, oppure della Lazio, però Sarri è riuscito a fare un gioco, fa un gioco, è capito come, fra seggi veloci, pressing, così si gioca, così si gioca, però sta fuori dalle coppie, non me ne frega un cazzo, io previsco Caglio e perde il campionato, ma gioca bene, non me ne frega un cazzo, abbiamo 4.000 scudetti, basta, abbiamo 12 coppie in Italia, basta, voglio la coppa, voglio la cempio, e se tu la cempio e non la vinci, hai fallito, perché con una squadra del genere tu hai fallito, sei un fallito, Conte in Europa ha fatto schifo con due apparizioni, Allegri ha fatto proprio pena, perché ha sempre perso, non ha vinto manco una cazzo di coppa, ma ha ancora una coppa ha vinta, allora che volevo dire, Allegri è proprio negato per la coppa, punto, punto, ha vinto lo scudetto con Mila, ha vinto lo scudetto con Tre con la Juve, questo dovrebbe essere il quarto, dovrebbe, e poi l'anno prima è andato in coppa che già il Mila c'era andato quando non c'era lui, ma di che cazzo stiamo a parlare, Allegri è un negato in coppa, è un negato, è un cacca sotto, è un cacca sotto, col Bayern Mono ci hanno preso a pizze in faccia, dopo hanno fatto un primo tempo in attacco, sto coglione me l'eva Morata e me l'eva Quadrato, i meglio in campo l'ha levato, ieri uguale, ieri uguale, la stessa cosa, ha levato Bernardeschi, i meglio in campo, li leva, li leva, Bernardeschi stava a giocare bene, i meglio in campo, lo sostituisce, ecco perché sto allenatore mi fa incazzare come una bestia, non lo sopporto, te ne devi annare, te ne devi annare, te ne devi annare, vai a fare in culo, vai via, vai via, vai via, devi andare via, non te ne sopporto più, dice sì però siamo primi in classifica, no siamo secondi, però Allegri ci ha fatto vincere, sì sì, con tutti i giocatori che io ho comprato alla società, ha speso 500 miliardi, ha speso dei giocatori alla società, quando a Conte non spendeva manco 10 milioni d'euro, ma state vezzitti, state vezzitti, state vezzitti, però la Juve aveva pubbato, no, Conte aveva 11 titolari come Napoli, così aveva i stessi, i stessi, perché non ci aveva sostituti, non ci aveva sostituti, giocava con quelli, il campionato se ne è fatto tutto con i titolari, e gli altri 15, 20 che ci aveva, erano tutte pippe, ha capito? sa come stassare adesso con Napoli, ecco come stava Conte, ha capito? State vezzitti, i coglioni, state vezzitti, i coglioni, coglioni, ecco quello che dovrebbe essere, solo dei coglioni, però c'era Pirlo, Pirlo all'inizio l'aveva cacciato via, Bobba non si sapeva chi era, Vitale era un buon giocatore, ma Conte l'ha fatto, diventa un fenomeno, e poi che cazzo c'avevamo? Vabbè Buffon, Chiellini, Barzali, Borucce, già c'erano, che ci avevamo fatto, due settimi posti con questi giocatori, due settimi posti pure, di che stiamo a parlare? Eh? Di che stiamo a parlare? Di che cosa stiamo parlando? Con giocatori mediocri, titolari più o meno mediocri, siamo arrivati prima in tre anni di seguito, abbiamo vinto lo scritto, record dei punti, i mogli stanno a guardare il Galatasaray, che gli compravano anelca, come cazzo si chiamava, Bentner, mannaggia, state per setti, guarda, mannatevele tutti a fanculo, coglioni, ecco perché non ve sopporto, per questo motivo non ve sopporto, perché c'avete loro, c'avete proprio i paraocchi, siete proprio come i somari, 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 siete dei somari, tufosi somari, un capito in cazzo, ha dei pallone, e mi fate incazzare, è normale, levi Alessandro, e ci metti, che ne so, l'Istain, levi quello, ci metti quell'altro, c'avevamo tutti i sostituti, c'avevamo una cifra, però giocamo del merda, con tutti questi bei giocatori che ci abbiamo, giocatori tecnici, Iguain a volte fa sempre il difensore, Mangiudici fa sempre il terzino adesso, non so se quello che cazzo fa, non c'ha un'identità a questa squadra, giocano così, la rinfusa, giocano sempre poi la rinfusa, favo una partita buona, tipo con la terza stuola, e poi l'arte 10, 15, favo tutte le merda, perché l'Iuve gioca così, aspettando, si difende, arrocca, e poi trova il golletto, e si mette in difesa, però hai visto che l'Iuve, grazie, con questi giocatori, è normale che vinci, è normale che devi vincere con questi giocatori, pensa se non vinci cazzo, con questi giocatori, io con questi giocatori, se alleno l'Iuve, vinco 15 coppe dei campioni, vinco 15 ne vinco, e non mi voglio allargare, forse 20 ne vinco, con questi giocatori, testate cazzo, perciò, a me non me la frega un cazzo, questa allenatura, pure che vince, se ne deve dannare, perché questa squadra come gioca, mi fa venire proprio il latta alle palle, non la sopporto più, è diventata insopportabile, insopportabile, io perché la vedo, perché, vabbè, ma se dovessi pagare un coso per vederla, un abbonamento, ma, lasciamo, non la vedrai più, guarderei il risultato, che ha vinto io, tutto a posto, sono contento, ieri tutti i folici, ha vinto 2-0 a Firenze, certo, bello vincere con la Fiorentina, bello vincere con tutti, ma almeno fammi vedere un po' del gioco, testa di cazzo, ciao, è un po' del gioco, Grazie.